Iniziamo la presentazione della squadra verde di Gambolò, che si può bastare di avere il primo giocatore inserito in un articolo della gattetta, e cioè il signor Satrino Noè. Questo è veramente. Signor Satrino Noè, numero 11, si vuole da presento per primo. Va bene, dai, va bene così. Un applauso altrettanto caloroso per il Messie Filipone Francesco, numero 14, Marcone Mattia, numero 4, Spocco Alessandro, numero 15, Ozzone Massimiliano, numero 11, 12, ho sbagliato. Moltecchiani Andrea, numero 10, Spaventia Terzo, numero 9, Fabelli Matteo, numero 5, numero 8, Imparto, Passarotti, Cassie, Fabio. Profeta Terzo, numero 13, Rocchini Alessandro, numero 7, numero 6, Fratelli, Marco. All'Agnatore Sottale, Don Capo Arrucchieri, prima categoria, Clerici, Paolo, per un applausione. Signori della Dolorata, signori della Dolorata, siete a posto? Vi posso presentare? A Dolorata, Scarcante, Maglietta, Araccione, numero 7, bello di cognome di fatto, Matteo. Coro 13, la Botta della Cartucci, Rodin Stefano. Cori, Matteo, numero 10, Meshel, il Dermissi, Bruno, numero 4, Terzo, Dani, numero 8, Rinaldi Maurizio numero 15 ha animato la gara da 3 con nottevoli risultati numero 12 Rinaldi Maurizio numero 15 ha animato la gara da 3 con nottevoli risultati numero 15 Buona partita justi